Benvenuti in questo webinar grazie al quale voglio condividere con voi la funzione cattura e annota per catturare gli screenshot di windows. Partiamo cliccando su start, andiamo a cercare sotto la C cattura e annota, si apre la finestra cattura e annota, si sceglie nuovo, a questo punto si può prendere, si può selezionare parte dello schermo, lo schermo, questa parte dello schermo può essere scritturata, rimaneggiata, per esempio utilizzando la penna a sfera, la matita, l'evidenziatore o cancellando quello che è stato fatto, vi è anche la funzione righello e la funzione ritaglio dell'immagine stessa. Una volta fatto si può applicare, è possibile salvarla in una cartella di nostro gradimento, è possibile copiarla negli appunti e poi incollarla successivamente dove preferiamo, è possibile condividerla, per esempio nel feedback, in OneNote, nel promemoria di Cortana o nella mail. Infine nella funzione nella finestra cattura annota è possibile aprire un file, stamparlo, inviare il backup, modificare alcune impostazioni, ad esempio il salva catture, copia automaticamente negli appunti, attivato il salva catture, quindi chiede di salvare la cattura prima della chiusura, finestre multiple, quindi è possibile catturare finestre separate, il contorno della cattura, quindi vedere un bordo intorno alla cattura e varie opzioni sulla privacy. A questo punto abbiamo terminato con questa registrazione, vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima!